Il tubone è già pronto in Piazza Libertà, snodo dell'ennesima rivoluzione alla viabilità di Firenze. Complice la riduzione del traffico agostano in città, ecco che arrivano i cantieri nell'arteria urbana più delicata, quella dei viali. Si parte lunedì, si termina tra tre settimane con i lavori propedeutici ai collegamenti tra la vecchia e la nuova conduttura idrica, spostata per fare spazio a quella che sarà la nuova tramvia, che dovrà collegare la stazione a Libertà e quindi al centro storico passando per via Cavour. Saranno interessate le corsie più vicine agli edifici, mentre sarà utilizzata l'area al momento chiuso al traffico che sarà mantenuto sia verso Viale Lavagnini sia verso Viale Matteotti Fortezza. Durante questa fase sarà interessata anche l'area di via del Ponte Rosso. Abbiamo scelto di fare queste lavorazioni ora perché chiaramente abbiamo traffico in città e quindi sono i collegamenti fra la nuova tubazione dell'acquedotto e quella esistente. I cantieri riguarderanno le estremità. Per Viale Matteotti i lavori sono divisi in due fasi di quattro giorni ciascuna. Nella prima fase, dalle 21 di lunedì 2 agosto, il cantiere interesserà la direttrice verso Piazzale Donatello e il cimitero degli inglesi. Per la circolazione al traffico resteranno due corsie per senso di marcia. Dalle 21 invece del 6 di agosto alle 10 dell'11 agosto, l'area di cantiere si allargerà a centro strada e resterà una corsia per senso di marcia. Per agevolare il flusso sulla direttrice verso Piazza Libertà, nel tratto successivo all'incrocio con via Fra Bartolomeo, saranno a disposizione tre corsie in ingresso alla piazza.